Sei stato gentile a portare fuori Courtney? Al dorsia? Incredibile! Come sei riuscito a prenotare un tavolo? Fortuna, credo. Hai un bellissimo vestito. Non dirlo, non dirlo, fammi indovinare. Valentino Cuccio. Sembra morbidissimo. Il complimento era sufficiente, Luis. Ciao, Albert Stram. Bella cravatta. Come diavolo stai? Allen mi ha scambiato per quella testa di cazzo di Marcus Elberstram. In effetti anche Marcus lavora la P&P e fa le stesse identiche cose che faccio io. Anche lui ha un debole per gli abiti di Valentino e gli occhiali di Oliver. Marcus e io andiamo persino dallo stesso barbiere, anche se io ho un taglio di capelli decisamente migliore. Allora, come sta andando col pacchetto ransom, Marcus? Sta andando piuttosto bene. Davvero? Interessante? Non la trovi una cosa grandiosa? Vabbè, sai. Come sta, Cecilia? Fantastica ragazza. Sì, sono molto fortunato. Ehi, Allen. Congratulazioni per il pacchetto Fisher. Ah, grazie, Baxter. Senti, Paul. Squash. Telefonami. Facciamo venerdì? Non posso, no. Ho una prenotazione alle 8.30 al Dorsia. I migliori crostini ai ricci di mare che ci siano al mondo. Al Dorsia il venerdì sera? Come ci hai riuscito? Secondo me è una balla. Ti fai un grammo? Il mio nuovo biglietto. Che ne pensi? Uh, molto carino. Guarda che roba. Li ho ritirati ieri dal tipografo. Bel bianco. Bianco osso. E i caratteri si chiamano qualcosa tipo Cillian Rail. È notevole, Batman, ma questo è niente. Guarda qua. Ah, questo è bellissimo. Guscio d'uovo con caratteri Romalian. Ben, che ne dici? Bello. Gesù, qui siamo a livelli superiori. Come fa un primitivo come te ad avere tanto gusto? Non posso credere che Bryce preferisca il biglietto di Van Patten al mio. Ma aspettate. Ancora non avete visto niente. Caratteri in rilievo. Bianco pallido. Mistico. Sono colpito. Molto bello. Vediamo il biglietto di Paul Allen. Guarda quella indefinita tonalità di bianco. La raffinata consistenza della carta, oh mio Dio. Ha persino una filigrana. Qualcosa non va? Patrick. Stai sudando? La raffinata è una filigrana. La raffinata è una filigrana.